Ben trovati, come anticipato si parte per questa ultima giornata del Festival della Salute 2020 a Siena, da Siena, con una tavola ratonda molto importante legata alla prevenzione, legata alla medicina di genere. Io do il benvenuto a due grandissime professioniste, nonché carissime amiche, quindi mi fa veramente molto piacere averle qua insieme a noi. Gaia Tancredi, non ha bisogno di presentazioni, è un molto amatissimo presidente della Lilt a Siena, ben trovata Gaia. Buongiorno a tutti, grazie Virginia. E poi la vicepresidente della Lilt, nonché cardiologo, la dottoressa Francesca Cesareo, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci diamo tutti del tu per facilitare, poi è domenica, quindi siamo tutti un po' più relativamente tranquilli, visti i tempi. In famiglia. In famiglia. Allora, Gaia, io inizierei proprio intanto con un'apertura ovviamente dedicata al tema delle prevenzioni, che tra l'altro è un tema cardine da sempre del Festival della Salute Italiana, e voi ovviamente con il vostro lavoro ogni giorno, il vostro mantra e il vostro impegno. Partirei proprio da qui, raccontando l'impegno anche di questi mesi molto complessi, la Lilt non si è mai tirata indietro. No, non ci siamo mai tirati indietro. Nel primo lockdown abbiamo chiuso solo 20 giorni per cercare di organizzarci, per cercare di trovare tutti i presidi giusti per l'anticontagio. Adesso in questo secondo lockdown non chiudiamo, perché siamo molto più consapevoli, lo siamo noi, lo sono i nostri soci, i pazienti che vengono da noi, e lo sono i nostri medici. Quindi i presidi sono tutti attivati, forse ancora di più, perché poi con l'esperienza abbiamo imparato tante cose. E quindi da domani riprenderemo la nostra attività, perché anche a livello nazionale abbiamo fatto vari incontri con il nostro presidente nazionale Francesco Schittulli e le 106 sezioni nazionali, abbiamo voglia di affermare con forza che la prevenzione oncologica non va abbandonata, perché i dati sono molto, molto, molto pericolosi in questo momento, perché ci portano verso una visione di una presenza dei tumori sempre più costante e in crescita. Quindi abbiamo trovato nella prima fase tante persone che avevano rimandato i controlli e che quindi sono arrivati con stadi avanzati di forme tumorali, pertanto soprattutto nel seno. E quindi vogliamo invitare tutti ad affidarsi con fiducia ai centri, il nostro come ad altri non importa. L'importante è affermare con forza che la prevenzione oncologica non si deve fermare, perché mentre combattiamo il Covid altre malattie vanno avanti e fanno grandi passi in avanti e quindi dobbiamo evitare che si arrivi alla fine di questo percorso con tante persone, tantissime, ammalate di tumore e nessuno gli ha fatto una diagnosi in tempo per arrivare in tempo a un'individuazione, a un percorso di cura, a un percorso assistenziale. Quindi questa è la nostra missione, vogliamo affermarla con forza per aiutare la nostra popolazione a capire che nei centri si va e si va in sicurezza. Quindi da domani potete farlo tranquillamente alla LILTE come altrove, perché sono convinta che anche gli altri centri senesi abbiano adottato tutte le misure che servono. Uno dei temi centrali, un fil rouge di questa diretta, dove parleremo poi specificatamente di medicina di genere, sarà proprio un approccio totale alla persona, in questo caso poi con le differenze che andremo e le specificità che andremo a descrivere, ma l'approccio totale sempre di più anche nel mondo LILTE diventa un elemento fondamentale. Te ha impiato la squadra dei medici, dei grandissimi professionisti che con te lavorano, ci racconti un po' questo overview. Sì certo, noi abbiamo oltre 50 medici che ruotano all'interno della nostra struttura. Sono medici che toccano moltissime specialistiche, alcune hanno bisogno di strumenti e quindi li abbiamo dotati di strumenti all'avanguardia per poter effettuare le diagnosi, altre sono persone che accompagnano i nostri pazienti a un corretto stile di vita, ad esempio i nutrizionisti. Oggi ne avremo una delle nostre nutrizioniste, perché è vero che la prevenzione è l'arma più potente che abbiamo per sconfiggere i tumori, ma l'arma più potente è quella di adottare stili di vita adeguati. E quindi mangiare bene, nutrirsi bene, fare una buona, avere degli buoni stili di vita, ad esempio con movimento, con un buon riposo, evitare lo stress, in questo momento capisco sia molto difficile, però tutto questo e tutte queste buone condotte vengono applicate anche alla LILT attraverso i nostri professionisti. Quindi ho cercato di ampliare in tutte le specialistiche persone che aiutassero proprio i nostri pazienti in questo senso. E poi le specialistiche portanti le ho arricchite con professionisti di altissimo livello, perché volevo che proprio la LILT offrisse il miglior panorama possibile a livello di professionisti e in effetti sono persone, oltre ad essere brave, sono anche molto molto accoglienti e in questo momento ce ne estremo bisogno perché c'è tanta tanta paura e soprattutto le donne hanno bisogno di essere condotte in un percorso di prevenzione e credo che le persone che adesso sono lì ad accogliere i nostri pazienti siano quelle giuste per questo tipo di meccanismo, perché l'equilibrio fisico e mentale è quello più importante per accedere a qualsiasi esame di questo tipo, perché si sa che possa portare anche a un esito negativo, un esito che non si vuole conoscere, che si rifugge, che si cerca di non conoscere mai. Però qualora ci si imbattesse in una brutta avventura di questo tipo, lì ci sono le persone giuste per accompagnare le donne in un percorso assistenziale, quello giusto e adeguato e in questo momento purtroppo ne abbiamo tante, ma ci sono le persone giuste per farlo. A proposito di persone giuste poi ti chiederò anche un altro elemento molto bello, cioè di grandissimi professionisti che hanno deciso di sposare la causa Lilt, la famiglia della Lilt a Siena, perché è una realtà molto particolare e che hanno deciso di darvi una mano, l'abbiamo raccontato anche, che l'hai raccontato tu anche nel primo convegno dei medici Lilt che si è tenuto a Siena, penso alla collaborazione con il professor Maio, ma non solo, ne parleremo dopo. Adesso la parola alla dottoressa Ciosareo, che appunto è la vicepresidente della Lilt di Siena, cardiologo dell'ospedale Santa Maria alle Scotte. Medicina e l'applicazione al genere è qualcosa che si sta delineando, è una materia abbastanza fresca, è una materia in divenire. Iniziamo, dottoressa, a fare un po' un quadro generale. Sì, l'argomento medicina di genere chiaramente è un argomento molto ampio, molto interessante. Oggi non potremo ovviamente approfondire, però possiamo iniziare a dare alcune indicazioni che possono dare un po' l'idea dell'importanza dell'argomento. Intanto partiamo da cosa non è, perché a volte può essere utile. La medicina di genere non è la medicina dell'apparato riproduttivo, non è un genere di medicina, ossia non convenzionale o complementare, e non è la medicina di popolazioni fragili o la medicina per medici generici. Diciamo che la medicina di genere studia l'influenza del sesso nella sua accezione biologica e nel genere, nella sua più ampia accezione sociale, sulla fisiologia, fisiopatologia e clinica di tutte le malattie, in modo da garantire, arrivare a una decisione terapeutica che sia specifica per l'uomo e per la donna. Perché nel passato erano riconosciute le differenze riguardanti soltanto l'apparato riproduttivo ginecologico. Si parla infatti in questa accezione di sindrome del bikini. Si è visto invece negli anni che le differenze riguardano tutti gli aspetti della salute. perché se è vero che uomini e donne sono esposti alle medesime patologie, tuttavia ci sono delle significative differenze che riguardano l'incidenza della malattia stessa, i tempi di insorgenza, l'espressione anche con cui si manifestano, la progressione, la risposta alle terapie e quindi anche la prognosi. Pensiamo come esempi generici, mi viene in mente le malattie neurodegenerative, per esempio l'Alzheimer nelle donne, il Parkinson nell'uomo, le malattie autoimmuni che nelle donne hanno un'incidenza sicuramente maggiore per questa risposta immunitaria più marcata che c'è e quindi anche di conseguenza le risposte alle malattie infettive, alle terapie nonché ai vaccini riguardanti proprio la parte del sistema immunitario sicuramente differiscono anche i tumori stessi. Sappiamo che tra i vari tipi di tumore ci sono differenze di incidenza, di progressione, di risposta alle terapie che chiaramente non possono essere ridotte alla componente soltanto ormonale, esiste appunto la componente immunitaria, la componente genetica, quindi è un discorso abbastanza complesso. Ovviamente poi io facendo il cardiologo mi viene ovviamente di approfondire un po' anche la parte cardiovascolare, perché... Ecco, proprio su questo richiederai infatti una specifica. Esatto, perché forse nell'immaginario collettivo questo concetto non c'è, cioè i dati di mortalità nelle donne sia in Italia ma anche in Toscana sono rappresentativi, la principale causa di morte sono le malattie cardiovascolari, al secondo posto i tumori, quindi esiste anche questa componente che è molto importante perché è vero che c'è una crescente consapevolezza nelle donne che le malattie cardiovascolari siano importanti, quindi anche la prevenzione per la propria salute, però una piccola percentuale ritengo che sia convinta che sia la principale causa di grossi rischi per la propria salute. Questo è uno dei problemi che crea proprio un ostacolo alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Per fare degli esempi, diciamo, di differenze di genere e di sesso, parliamo della cardiopatia ischemica che forse è quella un po' più riconosciuta e conosciuta anche dalle persone nella sua accezione più generale e più nota è quella dell'infarto o comunque delle sindrome coronariche acute che comprendono, di cui fa parte l'infarto, ma anche delle forme, diciamo, meno aggressive o forse a meno rischio. La donna già di per sé come anatomia delle arterie del cuore presenta delle arterie più piccole, quindi è possibile che ci siano dei meccanismi già diversi riguardanti la patologia ischemica. Spesso anche proprio alla causa dell'infarto può essere differente rispetto all'uomo, cioè proprio alla base. Pensiamo ad esempio che nelle donne troviamo spesso una sofferenza ischemica, anche un infarto vero e proprio, dovuto non alla placca terosclerotica, ma per esempio a uno spasmo della parete, cioè la funzione parietale del vaso si costringe e quindi occlude il vaso pur non essendoci una placca all'interno. Esistono delle forme, ad esempio, che vengono chiamate letteratura minoca, ossia si verifica l'infarto vero e proprio, ma non troviamo poi, quando andiamo a fare le indagini, una malattia terosclerotica o un'ostruzione coronarica. Esistono delle forme, forse qualcuno l'avrà sentita, perché ha un nome giapponese e quindi magari rimane un po' incuriosito, si chiama Takotsubo e è una sindrome proprio tipica delle donne che si manifesta clinicamente come, diciamo, un infarto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non troviamo una malattia coronarica terosclerotica, il cuore assume una forma proprio a palloncino, che è tipica di questo, e si verifica di solito dopo un grosso stress emotivo o fisico. Questa è un'altra patologia tipica. È vero che nelle donne la cardiopatia ischemica si manifesta più tardivamente, lo sappiamo un po' per la protezione anche degli ormoni, si manifesta soprattutto se le donne hanno più fattori di rischio. Quindi si capisce che l'importanza di identificare il profilo di rischio della donna, intendo la familiarità, il fumo, l'obesità, la pressione, l'ipertensione, il colesterolo elevato, il diabete ovviamente la fa da padrone. Diciamo che identificare questo profilo di rischio e agire con strategie di prevenzione che riguardino gli stili di vita e, se necessario, ovviamente anche l'utilizzo di terapie che siano proprio basate sull'evidenza, risulta estremamente importante. Diciamo, questo era un po' un breve scursus, ma questo ha fatto capire ad oggi che quindi le differenze non riguardano soltanto gli organi riproduttivi, riguardano tantissimi aspetti. E quindi ad oggi esiste un centro di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità per la Medicina di Genere, la cui attività, diciamo, si occupa di promuovere eventi educazionali e formativi riguardanti l'argomento, valutare varie strategie di rischio, di prevenzione del rischio per uomini e per donne, cercare di identificare biomarcatori che sia diagnostici che prognostici, genere specifici, anche valutare la differenza di risposta alle terapie, perché anche questa è una differenza importante, e soprattutto iniziare a produrre raccomandazioni e linee guida in un'ottica della medicina di genere, perché è vero, non solo, ma il Ministero della Salute ha promulgato una legge, perché a questo punto la medicina di genere è diventata legge, nel 2018 ha predisposto, diciamo, con proprio decreto, un programma volto proprio alla diffusione della medicina di genere, proprio per garantire la qualità e l'appropriatezza delle cure. Io credo che l'obiettivo sia una salute disegnata sulla persona, che sia poi appunto il genere o meno, anche perché appunto siamo tutti uguali, diciamo, per quanto riguarda i diritti, però per i bisogni siamo anche molto diversi. È stata molto chiara, tra l'altro la dottoressa rimarrà con noi anche nella staffetta degli altri medici che si alterneranno, tra l'altro chiederei proprio alla regia di far scendere intanto il dottore Andrea Stella, nel frattempo vorrei ancora una battuta con la dottoressa Tancredi, che troveremo poi anche per le conclusioni insieme. Dicevo, grandi professionisti che hanno sposato la causa Lilt, facevo l'esempio del dottor Maio, che abbiamo avuto ospite all'interno del Festival della Salute, ma ci sono anche altri esempi. Questo innanzitutto penso si riempie d'orgoglio. Sì, moltissimo, perché vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e anche insieme all'azienda ospedaliera. Questa è una cosa che ci è stata attestata anche dal direttore generale pochi giorni fa. Cioè le nostre convenzioni hanno portato molti benefici alla popolazione senese. Quindi integrare i nostri servizi con quelli dell'ospedale ha portato grandi cose sul territorio. E adesso ci sono due elementi che sono, secondo me, di grande importanza. Uno è l'arrivo del professor Petraglia, che sta facendo consulenze ginecologiche. Lui viene gratuitamente come volontario e quindi è una cosa molto importante per una persona del suo livello essersi avvicinati a un'associazione come la nostra per offrire la sua professionalità. E l'altra collaborazione che stiamo attivando è quella con il professor Maio, perché l'immunoncologia riteniamo che sia un elemento importantissimo nel nostro contesto e lui manderà alcune delle sue collaboratrici da noi per poter ricevere coloro che ce lo chiedono, ti dico, Virginia, ogni giorno. Perché ci sono persone che dopo aver sperimentato un po' tutto e provato un po' tutto cercano la via dell'immunoncologia e quindi chiedono a noi di trovare un link, un legame con il professor Maio il più velocemente possibile. Adesso c'è, perché all'interno della Lilt molto presto avremo la possibilità di far accedere i pazienti che ne hanno bisogno. Quindi questi sono i due nuovi elementi che, è vero, mi riempiono d'orgoglio, ma soprattutto danno un'occasione in più ai pazienti. Allora, chiederei al nostro regista di mettere un piccolo loop della sigla. Noi facciamo intanto un cambio ospiti e facciamo accomodare il dottor Stella. Il video andrà nella parte terminale invece. Grazie a tutti. Ultima giornata del Festival della Salute 2020 a Siena. Vi stiamo trasmettendo dagli studi di Canale 3. Un saluto, ovviamente, un plauso al grande lavoro di tutto la staff tecnico dell'emittente. Un saluto ovviamente a tutti gli organizzatori e al grande staff del Festival della Salute. Siamo partiti oggi con una tematica molto complessa. Innanzitutto il tema della prevenzione e poi la medicina di genere. Io do il benvenuto al dottor Andrea Stella, che è il responsabile della parte senologica della Lilt. Ben trovato. Buongiorno, grazie, Virginia. Allora, Francesca, con Andrea abbiamo detto di darci del tuo. Oggi è domenica, siamo tutti un po' più free. Abbiamo fatto un inquadramento con la dottoressa Cesareo su cosa, innanzitutto, è la medicina di genere e la sua applicazione. Te guidi un reparto delicatissimo per il mondo delle donne e ovviamente la prevenzione legata in primis al tumore al seno. Ci fai un po' un quadro e poi iniziamo a scorrere le slide che ci hai portato. Bene, grazie. Ovviamente questo è un momento delicatissimo. Stiamo, come ormai già detto, lavorando tanto. La Presidente ha giustamente ricordato che non ci dobbiamo fermare, anzi, in questo momento, con tutte le accortezze del momento. Non possiamo dimenticare del ruolo che ha e svolge la nostra realtà. Non solo l'ILT, ma anche tutte le problematiche in termini sanitari sulla prevenzione oncologica. E ci ricordiamo che il tumore al seno riveste ancora uno dei tumori più importanti. Quindi è veramente quello dove combattiamo di più anche sul Lega Tumori. La Vice Presidente è a conoscenza dei nostri numeri che purtroppo tutti i giorni troviamo. Io, grazie, Vergina, dell'occasione anche di ricordare che guido una sezione, quella della senologia diagnostica, dove tutti i giorni purtroppo troviamo tantissimi casi, anche in persone giovani. Ho preparato giusto qualche slide. Iniziamo a vederle, Sergio. Eccole qua. Medicina di genere, medicina per le donne, ovviamente. Qualche messaggio, esatto, grazie. Diciamo che, avanti. Corriamo. Che il tumore alla mammella è la neoplasia più frequente. Non dimentichiamoci che adesso, secondo gli ultimi, diciamo così, studi, una donna su otto avrà un tumore al seno. Quindi è impressionante quanto sia, da un punto di vista epidemiologico, frequente per questo tipo di neoplasia. Ma abbiamo avuto, effettivamente, grazie alla diagnosi precoce, una significativa riduzione della mortalità. E questo è un impatto importante. Parlando di genere, il nostro non è un tumore esclusivo. Purtroppo anche gli uomini si ammalano il tumore al seno. E questo è spesso sconosciuto. Spesso sconosciuto. E anche in questo caso la diagnosi precoce è importantissima. Chiaramente non c'è uno screening per l'uomo, no? Però, lo voglio dire, incidentalmente sono molto più rari, ma ci sono. E hanno una proniosi molto più in fausta. Purtroppo, quelli che troviamo, anche quest'anno ce ne sono stati alcuni, che, devo dire, io poi mi affeziono ai pazienti e le seguo anche dopo. Sono forme più aggressive. Sono forme più aggressive che hanno una proniosi più difficile. Andiamo avanti. Scorriamo? Scorriamo. Ecco, qui vorrei semplicemente ricordare che, da un punto di vista epidemiologico, la realtà del tumore al seno è impressionante. Come vedete, l'incidenza è elevatissima rispetto a tutto il panorama dei tumori che abbiamo. Ma la mortalità è molto più bassa rispetto a altri tumori. Come vedete, la differenza, la forbice si sta allungando. Quella blu sempre di più. Purtroppo ne vediamo sempre tanti. Ma la mortalità scende rispetto a altri tumori, come per esempio quelli polmonari, in cui purtroppo la mortalità è molto elevata. Avanti, grazie. Andiamo. Andiamo veloci, diamo qualche messaggio. Ricordiamo che il rischio di ammalarsi aumenta con l'età, ma in controtendenza ne troviamo tanti ancora più giovani. Quindi negli ultimi anni si stanno presentando casi anche di trentenni. Quindi questo ci induce a non dimenticarsi di fare questo tipo di controllo. Abbiamo dei fattori di rischio. Sì, va bene, grazie. Possiamo anche lasciare su questa. Lasciamo questo. che ci impongono un protocollo diagnostico stretto. Quindi un autoesame sempre da fare e la visita al sintomo. Cioè se c'è un sintomo non ci dimentichiamo, non abbiamo paura. Stiamo attraversando, come dicevamo, un momento delicato. Ma tutte le strutture attualmente riescono ad accogliere in maniera funzionale bene questo tipo di... Parlo di Siena, ma la regione toscana ha attualmente la possibilità di farlo, questo tipo di controllo. E lo dobbiamo fare, non ci dobbiamo impaurire di questo. L'ecografia è una diagnostica che si fa già dai trent'anni, quindi va benissimo sotto il quarantesimo anno, in cui si comincia effettivamente a proporre la mammografia. Che è un esame molto più completo e che viene fatta annualmente fino ai 50 anni. Dopo diventa biennale, una cadenza ovviamente in base ai fattori di rischio, terapia ormonale, familiarità. Allora, andiamo avanti, sorvoliamo su alcune dinamiche. Ecco, l'autoesame, questo è un po' un primo step. Sì, una cosa che ci chiedono e che mi chiedono spesso è, ma è veramente utile? Sì, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo proporre. Si pensa che viene fatto forse il 30% della popolazione femminile lo fa. Invece è un esame, è qualcosa che deve essere proposta, ma non per fare una diagnosi, per fare, semplicemente per aiutare, conoscere il proprio seno, significa fornire delle informazioni utili che poi arriverai al momento in cui c'è un sintomo a trovarlo presto. Non è certamente il dolore che ci deve spaventare, ma è bensì la presenza di un nodulo. Comunque, tutte queste sono cose che troviamo sempre in tutti i siti, in tutte le brochure che diamo. Andiamo avanti? Ecco, una cosa che ci tengo tantissimo è la tecnologia che ci sta guidando. Voi siete super all'avanguardia. Io ho iniziato ormai due decenni fa, in cui c'era un'ecografia di vecchia, purtroppo generazione, con una mammografia analogica in cui si faceva molta fatica. Andiamo avanti. Oggi abbiamo effettivamente un panorama incredibile di diagnostica per immagini sempre più avanzata, sempre più all'avanguardia. Quindi una tomosintesi, un'ecografia che ci dà una serie di informazioni molto dedicata alla senologia, quindi effettivamente molto utile, sempre più in grado di diagnosticare cancri molto piccoli. Andiamo avanti e vediamo come noi della senologia dobbiamo stare al passo dei tempi. Io ho preso questa foto che prende delle donne anziane, ma per fortuna ci stiamo al passo dei tempi. Siena risponde. Avanti, grazie. Ricordiamo, infine, smettiamo un mito che la mammografia possa far male. Assolutamente no. La mammografia ha una dose attualmente con i sistemi che abbiamo accettabile e che permette di identificare forme prima che siano sintomatiche, quindi molto presto. Andiamo avanti. Faccio vedere solo qualche caso, non per far capire come persone assolutamente asintomate che fanno un controllo di routine per caso. Andiamo avanti, come vedete sulla vostra destra, sullo schermo, il seno mostra una piccolissima opacità spiculata, un'alterazione che vediamo solo, andiamo avanti, con un sistema avanzato come possiamo avere. Eccolo qua. Qui lo vediamo bene, perché questa è una slide, è una slide di una fetta, come vediamo, no? Perché l'atomosintesi ci riesce a fare tante piccole fette del nostro seno e ci riesce a vedere cose che prima non vedevamo, inimmaginabili qualche tempo fa. E andiamo avanti. Poi ovviamente anche le nostre macchine ecografiche riescono a identificare, queste sono forme di 3-4 mm. E questo da un lato è spiacevole perché il panorama ce ne vediamo tanti di più di prima, però lo troviamo presto. E quindi questa è un'azione di prevenzione essenziale. Assolutamente importante. Io concluderei, andiamo avanti, con due parole sul fatto che il salvare la vita è grazie a una diagnosi precoce, ma soprattutto migliora la qualità della vita, la qualità delle cure. E ovviamente questo, anche la mortalità, si è visto che persone che fanno controlli periodici, praticamente la loro mortalità è quasi zero. Si curano bene e per fortuna non muoiono più. Oggi ricordiamo che abbiamo la possibilità di accedere a servizi di prevenzione dovunque siano. Parlo di screening mammografico che adesso è steso, Regione Toscana ha deliberato 45-75 anni offrendolo a tutti. E quindi rispondiamo bene. La qualità, attualmente l'Italia è una delle nazioni che veramente offre una qualità senologica molto elevata nel panorama europeo. Quindi siamo fortunati a stare qua. E oggi per finire personalizziamo le terapie, cioè una medicina di precisione. Riusciamo a capire anche in questo a stratificare bene. Torniamo un po' sull'elemento, dottoressa, che diceva lei prima. Intanto io chiederei al Sergio di chiamare il dottor Pulcinella, che sarà la prossima testimonianza. Però prima di lasciare il dottor Stella, ecco, ritorna a questo elemento della personalizzazione. Ritorna, esatto. E infatti mi piacerebbe, se anche in poche parole ci potesse dire, si sente molto parlare anche dei test genetici, soprattutto nelle donne molto giovani. Si sente anche cose mitologiche, insomma, di gente appunto che si comincia a dire io se ho questa grossa familiarità, questo grosso rischio genetico. Allora devo porre più attenzione. A che punto siamo, ecco, da questo punto di vista? Sì, Francesca, è vero, è vero. Questa è una cosa che abbiamo, siamo andati veloce, ma due parole per far capire che oggi, rispetto a qualche anno fa, abbiamo la possibilità all'interno di una breast unit, di un gruppo di lavoro che si occupa di cancro al seno, di offrire questo tipo di consulenza. E quindi non solo se c'è una familiarità, ma se c'è una persona molto giovane che riceve una diagnosi di tumore al seno, ha la possibilità di capire se è sostenuto da una mutazione genetica. E ne troviamo tante, anche misconosciute fino a qualche anno fa. Quindi personalizziamo anche qui il trattamento. Se lo facciamo prima, possiamo offrire un trattamento differente per guarire meglio. Grazie, grazie al dottor Stella. Ovviamente questa è una staffetta dove cerchiamo di dare degli elementi di base. I medici della Lilt sono ovviamente a disposizione per approfondire queste tematiche. Buon lavoro, un grande lavoro. Grazie. Allora, un piccolo break di stacco sigla e un nuovo cambio ospiti. Ci raggiunge il dottor Ruggero Pulcinella, ginecologo esperto in endoscopia. Prevenzione e medicina di genere è il tema con cui abbiamo aperto questa ultima giornata del Festival della Salute, che quest'anno ha scelto Siena come sua casa. Ci ha raggiunto il dottor Ruggero Pulcinella, ginecologo esperto di endoscopia. Anzitutto ben trovato. Allora, iniziamo subito ad affrontare il tema, il settore di cui lei si occupa. Ci ha portato anche delle slide che chiederei a Sergio già di proiettare. Le commentiamo insieme a lei. La successiva diapositiva, in cui c'è un elenco dei quattro grossi temi che riguardano un po' la prevenzione, la diagnosi precoce dei tumori e delle malattie in generale, ma soprattutto dei tumori dell'apparato genitale femminile, principalmente i sanguinamenti uterini anomali, di cui parleremo un po' di più, perché è il sintomo evocativo angosciante numero uno da parte delle donne, anche se, grazie a Dio, nella maggior parte dei casi non rappresentano una popologia tumorale, ma evocano sicuramente nella mente della persona che c'è un problema di questo genere. Poi il cancro dell'endometrio, che oggi è diventato il numero uno dei cancri dell'apparato genitale, perché dopo la quasi scomparsa o comunque la netta diminuzione del cancro del colo dell'utero e ancora la ridotta incidenza di quello dell'ovaio diventa il numero uno da diagnosticare e prevenire, eccetera. Possiamo andare avanti con la prossima. I sanguinamenti uterini anomali sono, genericamente, hanno tanti sinonimi, quindi le donne le conoscono sotto tante forme, menorragia, metrorragia, polimenorrea, silice, dematica, eccetera, eccetera, ma tutti evocano un'unica situazione, cioè un sanguinamento uterino al di fuori delle mestruazioni, che sia in età fertile, tra un ciclo e l'altro, peggio ancora, se è in menopausa, quando le mestruazioni non dovrebbero esserci più. Le cause principali, quale sono? La prossima. In una buona parte dei casi vedete che non corrispondono a nessuna patologia, sono questi detti perditi di sangue disfunzionali, di natura ormonale, che non hanno dietro alla base nessuna patologia organica da rimuovere, né degli angiossicali né da rimuovere. Poi ci sono però molto frequenti i polivi endometriali, di cui parleremo con un paio di diapositive in più, perché è la patologia più frequente, i fibromi uterini, i miomi o fibromi uterini cosiddetti, le iperplasia endometriali, che sono semplicemente delle ipertrofie, degli spessimenti dell'endometrio, cioè la mucosa che riveste la cavità uterina, e già vedete, intorno ai 50 anni, un numero significativo, un 4% di patologie neoplastiche, o precursori dei tumori, o tumori già dichiarati. La prossima diapositiva, questa è molto importante, perché fa vedere come il sanguinamento uterino anomalo, dovuto a un cancro dell'endometrio, evolve rapidamente nel corso dell'età, per arrivare dal 9% intorno ai 50 anni, fino al 60% intorno agli 80 anni. Cioè una donna di 80 anni, che ha un sanguinamento uterino anomalo, ha il 60% di probabilità di trovarsi di fronte a un tumore, e 80 anni, che se ne dicono oggi, con la discussione che si fa sui Covid, insomma è un'età in cui moltissime donne ancora hanno un bel pezzo di vita piacevole e serena da vivere. Assolutamente. Scorriamo? Andiamo avanti. Come si fa una diagnosi in questo caso? Con due metodiche fondamentali. L'ecografia transvaginale, che valuta lo spessore e la struttura dell'endometrio, ma soprattutto l'isteroscopia, che è un'indagine mini-invasiva endoscopica, che permette di valutare la superficie, il colore dell'endometrio, dove è localizzata un'eventuale lesione, la vascolarizzazione, cioè la presenza di vasi che errorano questo tipo di patologia, e soprattutto permette di effettuare una biopsia mirata sulla lesione, quindi è un'edianosi assolutamente precoce. Andiamo avanti. Scorriamo? I polipi, ecco, dicevo poc'anzi che è la patologia più diffusa, ed è importante parlarne un attimo, velocemente, perché se voi vedete da questa diapositiva, dal 0,5% fino al 6-7% ci sono, possono essere su un polipo delle cellule maligne, quindi sono dei precursori del cancro dell'endometrio. Si parla di 0,5% in età fertile, ma in età più avanzate, soprattutto in menopausa, il livello aumenta fino al 9-10%, quindi non è assolutamente trascurabile. Ancora avanti? Scorriamo? Il problema qual è in questi casi? Che non è facile fare una diagnosi di visione, cioè io vedo un polipo, non posso dirlo con gli occhi, se ci sono cellule maligne, che non c'è una tecnica proprio che ne parla al 100%, e che quindi di fronte a un problema di questo genere, siccome poi la rimozione è molto semplice, dal punto di vista chirurgico, non ha senso mantenerli e valutarli nel tempo, ma è assolutamente indicato a rimuovere tutti i polipi endometriali. Avanti? Parliamo? Parliamo adesso del cancro invece dell'endometrio rapidamente. Beh, ci sono dei fattori di rischio, questo bisogna che si sappiano. Non avere avuto figli, una menopausa tardiva, l'obesità, il diabete, aver avuto una terapia estrogenica in menopausa non bilanciata dal progesterone, tamoxifene, cioè il famoso farmaco che conoscono bene le donne che sono state operate per una carcinoma alla mammella, e poi questa ipertrofia atipica, cioè questo espessimento della mucosa endometriale dove ci sono delle cellule atipiche. Questi sono tutti fattori di rischio. Ancora avanti. Il problema qual è del cancro dell'endometrio? Che non si può fare screening, non c'è un pap test che lo diagnostichi prima che avvenga, quindi possiamo solo fare una diagnosi precoce e quindi rimuoverlo anche con una chirurgia conservativa. Quello che ci viene di aiuto è che a cancro già iniziato, seppur nelle primissime fasi, il primo sintomo è un sanguinamento uterino anomalo, quindi di fronte a questo, soprattutto in menopausa, non dobbiamo perdere tempo nella diagnosi. Andiamo avanti. Ecco, queste sono alcune immagini isteroscopiche, perché anche qui l'isteroscopia la fa da padrone, perché può vedere appunto, come vedete, la superficie della neoformazione, che può essere regolare. La vascolarizzazione è fatta da vasi atipici alterati e soprattutto, come ho detto già prima e ripeto, una possibilità di fare una biopsia e una diagnosi. Quindi quella che noi chiamiamo l'isteroscopia con biopsia è il gold standard nella diagnostica del cancro dell'endometrio. Avanti ancora. Questo è molto importante, perché vi fa vedere come negli ultimi anni si è abbassata l'età di incomparsa del cancro dell'endometrio. Addirittura il 15% avviene tra i 20 e i 45 anni. Perché dico questo? Guardate che è un'età in cui molte donne ancora ricercano il primo figlio, se no o il secondo o il terzo. Quindi dobbiamo tenere presente questo evento. Perché? E passiamo alla diapositiva successiva. Perché detto questo, io passo immediatamente a poter dire che oggi c'è una tecnica chirurgica conservativa sulla primissima fase del cancro dell'endometrio. Allora, una donna che ha 35-40 anni e vuole un figlio ed è affetta da questo tipo di patologia non deve necessariamente togliere l'utere, quindi precludersi per sempre dalla possibilità di fare un figlio, ma può ancora ricorrere, tramite l'isteroscopia operativa, ad una chirurgia conservativa che permette cioè di mantenere l'integrità della parete. Ci sono dei criteri della cavità dell'utero, ci sono dei criteri esclusivi evidentemente, o inclusivi anzi, l'età che non deve essere superiore ai 40 anni, non aver fatto figli, aver avuto una lesione che sia unica e non superiore ai 2 cm, eccetera, eccetera. Si consiglia il tipo di cancro, perché ci sono vari tipi istologici e solo uno, non ne parlo adesso perché vabbè un termine endometrioide, che permette una chirurgia conservativa, fatto questo, consigliamo alla donna di fare un figlio e poi comunque di togliere l'utero una volta venuta la gravidanza. Avanti. Ecco, possiamo passare velocemente a quello del collo dell'utero, ma lo dico due parole perché è diventato un cancro oggi assolutamente diagnosticabile in tempo, prevenibile, perché il PAP test e le ricerche adesso sul DNA, sull'HPV, ne hanno praticamente ridotto tantissimo la frequenza, una chirurgia conservativa per eccellenza tramite colonizzazioni piccoli interventi e soprattutto la vaccinazione ne ha ridotto tantissimo l'incidenza e soprattutto poi la patologia, il rischio di patologia. Se volete ne parliamo successivamente, non so, vi dico due cose veloce perché credo che le diapositive siano finite. Francesca. Su discorso vaccino, forse possiamo... Ecco, su questo più che altro due parole su questo. Soprattutto per le persone giovani, ma lì c'è l'indicazione, ma anche magari informare se può essere fatto anche successivamente, fino a che età, se ha senso, se effettivamente... Assolutamente sì. Allora, l'età più importante è ovvio quella che precedono i rapporti sessuali, quindi dai 9, 10, 11 anni fino ai 15, 16 di norma. Ma si può fare fino ai 20, fino ai 45 anni anche, perché questo? Perché chiaramente la vaccinazione intorno ai 9 anni previene l'infezione da HPV, che è ormai dimostrato nel 90% dei casi causa del carcinoma della cervice dell'utero. Ed è una malattia sessualmente trasmessa, quindi evidentemente farlo prima dei rapporti sessuali previene fino al 90% dei casi l'insorgenza di un cancro dell'endometrio. Pensate che oggi i vaccini sono diversi tipi. Una volta era bivalente, cioè riguardava soltanto due tipi di HPV, poi c'è stato il tetravalente e oggi c'è un vaccino non avalente, cioè prende i ceppi più diffusi di HPV che possono provocare non solo il cancro del collo dell'utero, che quindi può essere sradicato in breve tempo col PAP test e con la diagnosi precoce e con la vaccinazione, ma può colpire anche, può diminuire, fa scomparire anche la presenza semplicemente di un condiloma. Toglie al 90% questo rischio, per cui si deve dire che comunque una donna deve continuare a fare anche il PAP test nel tempo. Oggi dei PAP test si fa, ripeto, con la diagnosi dell'HPV direttamente, quindi del tipo di HPV, distinguendo tra quello pericoloso e quello no, ogni cinque anni, quindi una diagnosi preventiva è una prevenzione oncologica che è estremamente anche agevole farla. Assolutamente. Dottor Luggiero, io la ringrazio Francesca, mi sembra la tematica ovviamente per i tempi che noi abbiamo è un overview, come abbiamo detto all'inizio, ma in questo caso abbiamo rifocalizzato anche tante possibilità di prevenzione. Nel frattempo i nostri collaboratori ci faranno scendere la dottoressa Menillo, con lei parleremo di nutrizione. Vorrei ritornare a questo punto. Non potendo appunto affrontarlo in maniera esaustiva, però che i vari professionisti con le loro competenze e varie professionalità in effetti fanno capire un po' il discorso che ho fatto inizialmente che è più generale, ma piano piano poi si delinea nelle varie, proprio questo anche obiettivo appunto della personalizzazione, della salute, della cura, del trattamento e quindi è sempre più importante perché se guardiamo gli studi fino ad oggi, anche i grandi trial clinici su cui ci basiamo poi sulle linee guida, comprendono quasi tutti uomini. Quindi piano piano, cioè il gruppo femminile è sempre poco rappresentato, per una serie di motivi ovviamente, non per un po' di sessismo, ma anche qui c'è la volontà sia da parte dell'istituto, appunto del centro di riferimento di cui abbiamo parlato prima, anche l'AIFA ha sollecitato le grosse case farmaceutiche che nei vari studi ci sia un ampliamento proprio anche della popolazione femminile in modo da poter avere sempre più dati, una raccolta dati che poi ci suggerisca appunto questo trattamento più personalizzato possibile, diagnosi e trattamento. Ho il tempo di 5 secondi per dire sulla vaccinazione che è considerata anche ai maschi, utile per i maschi, perché non prende soltanto tumori femminili, ma per esempio anche la vulva, la vagina, oltre che il collo dell'utero, ma anche l'ano, il pene, il cavo orofaringeo, molti tumori di queste zone sono provocati dall'HPV, quindi la vaccinazione va fatta alle femmine e ai maschi e previene anche altri tipi di tumori. Dottor Pucinetta, io la ringrazio per la sua testimonianza, adesso un piccolo break sigla e ci raggiungerà la dottoressa Federica Mennillo, nutrizionista. Grazie a tutti. Continua questa nostra corsa, questa staffetta dedicata alla prevenzione, alla medicina di genere, per chi si fosse collegato in questo momento, gli diamo ovviamente il benvenuto all'ultima giornata del Festival della Salute Italiana che quest'anno ha scelto Siena come sua casa e questo ovviamente ci riempie di orgoglio. Abbiamo fatto 4 giorni, un grande viaggio all'interno del tema della salute, oggi tocchiamo dei temi delicatissimi, quello della prevenzione e della medicina di genere. Lo facciamo grazie alla LIT, lo facciamo grazie alla dottoressa Francesca Cesareo, ci ha raggiunto nel frattempo la dottoressa Federica Mennillo, nutrizionista, beh anche qui il tema è centrale. Il tema è caldo. Allora, abbiamo pochi minuti, ma facciamo un quadro, dottoressa. Allora, intanto sono molto contenta di poter affrontare oggi questo argomento perché è assolutamente fondamentale ricordare che la prevenzione oncologica passa attraverso l'alimentazione e i nostri stili di vita a 360 gradi. Cosa si intende? Vuol dire che dobbiamo mangiare bene, ma fare anche attività fisica per quanto possibile in questo momento di lockdown, di limitazioni, però dobbiamo assolutamente mantenere la guardia alta. La cosa che mi preme di più fare oggi è dare un messaggio molto concreto perché si parla molto di dieta sana, di mangiare bene, però spesso i messaggi sono un pochino aspecifici, un po' confusi e le persone rischiano di perdersi dentro a questo grande insieme di informazioni che ci sono nei social e comunque sono sempre un po' rischiose le informazioni che vengono date. Allora, noi bisogna essere molto chiari. Cosa vuol dire mangiare bene? Allora, intanto nelle linee guida della Comunità Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è rappresentata come seconda motivazione di prevenzione quella della sana alimentazione. Il primo rischio ovviamente è quello del fumo, legato al fumo, ma già in seconda posizione abbiamo quello della dieta sana. Cosa vuol dire mangiare bene? Allora, intanto dobbiamo mangiare poco o comunque meno di quanto facciamo adesso, dobbiamo mantenere un peso corretto. Quindi dobbiamo controllare il nostro peso e dobbiamo anche limitare la quantità di grasso addominale che abbiamo all'interno del nostro corpo. Quindi la circonferenza vita è importante. Vi dico queste cose perché poi da un messaggio teorico a una informazione pratica ce ne passa e quindi dobbiamo essere molto focalizzati su questo. Dobbiamo mangiare dei cibi sani. Cosa sono i cibi sani? Allora, intanto dobbiamo mangiare molte verdure. Quante verdure dobbiamo mangiare? Allora, si stima che bisogna assumere perlomeno 600 grammi di frutta e verdura al giorno. Poi dobbiamo mangiare dei cibi integrali e qui spesso sorgono dei problemi. Allora, i cibi integrali sono fondamentali per il nostro intestino, per mantenere un microbioma sano, per mantenere un microbioma samono che poi si traduce anche in una migliore risposta del nostro sistema immunitario. Questo è veramente importante. Qual è il problema? Che quando dico ai miei pazienti che devono mangiare cibi integrali e che devono mangiare i legumi, che sono un alimento salutare per eccellenza, spesso loro non riescono a farlo perché soffrono di gonfiore, di fastidi, eccetera. Questo perché non hanno coltivato il loro microbioma intestinale nel tempo e questo li porta a non accettare più determinati alimenti. Quindi noi dobbiamo lavorare con tanta pazienza nel reintrodurre i cibi un pochino più integrali, un pochino più ricchi di fibre nella nostra dieta e piano piano nel tempo riusciremo a mangiarli nuovamente perché vi assicuro che è molto più importante reintrodurre questi alimenti anche se all'inizio ci danno un po' di disagio ma piano piano noi possiamo ridisciplinare nuovamente il nostro intestino, quindi la capacità di assimilarli di nuovo. Quindi i punti chiave sono quelli che vi ho detto finora e poi soprattutto in Toscana dobbiamo mangiare un po' meno carne, ok? Ecco, su questo facciamo un po' più specifica, dottoressa. Meno carne, quale tipo di carne? Esatto, assolutamente sì. Allora, mangiare meno carne. Allora, in questo sono tutti d'accordo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di assumere al massimo 500 grammi di carne a settimana, di carne rossa. A volte, quando le persone dico questo, mi dicono, ah beh, ma sì, è facile, io mangio la bistecca solo una volta a settimana. Nella carne rossa ci dovete calcolare dentro anche tutti gli affettati. Ci dovete calcolare se mangiate la pasta con il ragù, ci dovete calcolare se mangiate le cose derivate dal maiale. Quindi il concetto è che non dobbiamo avere paura di un alimento. Quindi dobbiamo mangiarlo con regolarità, ma con la giusta quantità. Quindi la carne rossa 500 grammi a settimana. Non si deve superare questa quota, d'accordo? Quindi questo è un concetto molto importante. Ma anche che non bisogna demonizzare alcuni alimenti. Per cui, così come non dobbiamo esaltare un alimento come elisir di lunga vita è come qualcosa che ci possa aiutare nella prevenzione in assoluto. Faccio degli esempi in maniera un po' provocatoria. Cioè non è che se tu assumi la curcuma una volta a settimana e nel frattempo sei una persona obesa, sovrappeso, che non si muove e che mangia tanta carne, non avrai un esito migliore della tua salute. Siamo d'accordo su questo. Quindi la gente spesso cerca un alimento che da solo ci possa guarire. Ma non è così. Non esiste. Noi dobbiamo... Purtroppo è molto più faticoso dire alle persone guarda, non devi stare a casa sedentario, ti devi muovere, devi mangiare correttamente, devi mangiare meno di quanto fai perché stando fermi, sedentari, al computer, alla televisione non abbiamo bisogno di così tanto cibo come magari poteva essere 70 anni fa che le persone andavano in giro in bicicletta, a piedi, eccetera. Quindi anche la sola quantità del cibo è un fattore preventivo. Importantissimo. Ecco, su questo, dottoressa, mi sembra già qui il quadro dei consigli sia molto chiaro. Tra l'altro fra poco scenderà il dottor Scapecchi, con lui parleremo di medicina integrata e naturale, anche sulla scia di alcuni consigli dati dalla dottoressa Mennilo. Sì, infatti avevo piacere che la nutrizionista che presta servizio da noi fosse presente perché è, in questo caso, un valore aggiunto al nostro gruppo perché non solo per la salute in generale e per il benessere ma, come abbiamo visto, per i vari stili di vita. Se avete fatto caso, a parte le mie malattie cardiovascolari, quindi il diabete, la pressione, il colesterolo, fanno tutti parte dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Abbiamo visto anche in qualche slide che hanno presentato il dottor Stella e il dottor Pulcinella che il diabete compare anche come fattore di rischio tumorale. Quindi è un valore aggiunto correggere gli stili di vita a scopo preventivo e in teoria anche coadiuvante rispetto anche a delle terapie che possono essere fatte e che possono creare anche un impegno per il nostro organismo. Ricordiamo poi, dottoressa Nenile, con questo chiudiamo la costanza, che poi è questa una grande sfida per tutti. Sì, certo. Bisogna fare delle scelte di vita che non siano soltanto temporanee ma più definitive quindi che devono rimanere con noi per sempre. Vorrei ricordare in ultima analisi che non sono soltanto i tumori quelli dell'apparato gastrointestinale che ci pongono maggiormente a rischio con una dieta scelerata ma sono anche quelli femminili è il tema un po' della giornata che sono per esempio il tumore al seno e il tumore dell'ovaio e dell'endometrio come avete visto anche prima l'obesità chiaramente peggiora tutto il rischio di ammalarsi ma per esempio nel tumore al seno ci sono degli studi che hanno dimostrato come una donna che comunque anche se ha già avuto un tumore al seno nell'insorgenza della recidiva ha un valore aggiunto ha meno possibilità di ammalarsi se mangia in modo corretto e mantiene un peso corporeo basso quindi ecco non solo colon tumore al colon tumore all'esofago tumore quindi gastrointestinali ma anche tutti quelli che sono legati al mondo femminile quindi bisogna veramente stare attenti su questo è davvero importante è prezioso quello che riuscirete a fare soprattutto ora che con questo lockdown sappiamo che già l'altra volta in primavera le persone hanno peggiorato le loro abitudini perché hanno mangiato di più sono state più sedentari quindi cerchiamo di mantenere una grande pazienza e insomma di essere attenti anche in questo momento molto difficile per tutti noi quindi ecco il consiglio compatibilmente ovviamente con le norme che dobbiamo rispettare la Toscana da ieri è diventata zona rossa abbiamo avuto l'intervento anche in diretta del Presidente della Regione su questo tema quindi compatibilmente con le norme che dobbiamo tutti con grande importanza rispettare stiamo attenti proprio a questi elementi della nutrizione gli elementi del movimento io dottoressa la ringrazio intanto per questa prima overview come dicevo con i colleghi è chiaro che noi oggi stiamo facendo una panoramica generale ma i medici saranno a vostra disposizione ovviamente per degli approfondimenti grazie a dottoressa Mennillo un piccolo stacco e andiamo a chiamare il nostro ultimo ospite il dottor Massimiliano Scapecchi medicina integrata e naturale eccoci con il nostro ultimo ospite per questa diretta dedicata alla prevenzione della medicina di genere con gli amici della Lega Tumori di Siena dottor Massimiliano Scapecchi si occupa di medicina integrata e naturale allora facciamo un po' un overview su questo sull'ambito medio che lei segue e l'applicazione ovviamente della tematica di oggi benissimo se è possibile prima di parlare della mia medicina integrata voglio approfittare di un minuto di tempo visto che siamo qui a parlare appunto di medicina di genere per rendere il giusto omaggio a tutte le guaritrici medichesse o dottoresse che si sono state adoperate nel corso dei secoli per la salute di tutti noi ricordiamo soprattutto Igea e Panacea che sono soprattutto figlie di Asclepio citate anche nel nostro giuramento di Ippocrate da Igea tra l'altro deriva l'appellativo igiene che utilizziamo anche noi oggi da Panacea invece è un po' più vicina alla mia medicina integrata perché quella relativa alle pratiche connesse alla salute secondo la guarigione con piante curative ed erbe dobbiamo ricordare in altri ambiti ad esempio in Egitto era Iside la patrona della medicina femminile legata alla fertilità alla maternità per arrivare ad epoche un po' più recenti a noi il quinto secolo dopo Cristo non possiamo dimenticare il metro d'ora che è stata praticamente la prima donna che ha fatto un trattato sulla malattia delle donne ed è stata praticamente la prima ostetrica della storia importantissimo per noi è stata soprattutto Trotola di Ruggero che è stata la prima vera e propria dottoressa che c'è stato lei è stata ha studiata alla scuola medica salernitana è una scuola medica appunto importantissima e appunto è soprattutto importante perché era quella che è stata la prima ginecologa non dobbiamo dimenticare poi ci sono state anche tre sante che si sono occupate soprattutto di medicina e sono state Fabiola Radegonda e il Degarda la più importante appunto è stata il Degarda il Degarda di Bingen che tuttora se vogliamo appunto possiamo trovare anche dei libri che ha scritto e anche questa appunto è una medicina sempre più inerente al naturale e comunque appunto a base soprattutto di piante anche visto l'epoca per quanto riguardano Senesi abbiamo anche una figura invece importante perché è Maria l'ebrea o Maria di Mosè forse non tutti i senesi sanno e questa figura che era la figliola poi di Mosè è raffigurata anche nel nostro Duomo è stata praticamente la prima alchimista e ecco lei che ha inventato il famoso bagno Maria e qui onore al merito a Senesi del 1200 perché è come dire una figura così importante sono riusciti a metterla in una sede a rappresentarla e metterla appunto poi dobbiamo dire che Maria in questo caso era più tendente al profano e al sacro quindi sono stati particolarmente per quell'epoca innovativi e poi niente arriviamo alle dottoresse di oggi e sono state così ben rappresentate dalle presenze in studio e io vorrei da uomo vorrei dirgli grazie per tutto quello che hanno fatto e per tutto quello che state facendo soprattutto devo dire il loro percorso non è stato semplice perché nel corso dei secoli spesso sono state additate magari come streghe perché avevano delle conoscenze oppure inquisite dalla santa inquisizione io invece vorrei dirgli grazie perché secondo me rappresentate non solo la parte più bella dell'universo ma secondo me rappresentano anche la parte più bella della medicina detto questo passiamo alla nostra a parlare invece della nostra medicina integrata medicina integrata è una medicina molto voata al femminile innanzitutto perché appunto quando si parla di medicina integrata si parla di floriterapia di fitoterapia quindi flora fauna già il nome stesso ci richiama all'essere femminile quindi trattiamo poi appunto anche omeopatia omotossicologia soprattutto PRM c'è medicina fisiologica di regolazione micoterapia e è molto importante che ci sono anche dei funghi medicinali tra l'altro che possano accompagnare l'evoluzione delle donne nei vari passaggi della loro vita importante per noi anche la nutraceutica di regolazione e soprattutto ne ha parlato anche prima anche l'alimentazione nella nostra diciamo visita che poi si richiama un po' alla visita omeopatica il nostro appunto è più un rapporto di racconto che fa il paziente e dove noi cerchiamo di mettere insieme e di arrivare alla guarigione per l'altro non solo del corpo fisico ma anche la parte mentale e per noi è fondamentale invece anche la parte diciamo emozionale o animica per quanto riguarda poi l'industria anche farmaceutica della medicina integrata devo dire che è molto vocata appunto al femminile perché uno degli ultimi prodotti ad esempio mi piace sempre ricordarlo è uscito tra l'altro da due mesi l'hanno creato proprio ad esempio per le ragazzine dalla prima mestruazione hanno fatto un'azienda appunto è riuscita a fare un ferro diciamo dolce proprio per eliminare coadiuvare gli inconvenienti appunto delle mestruazioni abbondanti e appunto si sa che il problema del ferro ha due problemi principali appunto la prima è una scarsa palatabilità che non lo rende gradevole e l'altro una scarsa assorbibilità e invece appunto alcune aziende sono riuscite a renderlo diciamo dolce come sapore e poi facilmente assorbibile dal nostro organismo diciamo per quanto riguarda poi il primo periodo mestruale abbiamo anche dei fiori di bac adatto appunto alle ragazzine in quell'epoca a me piace molto appunto anche la floriterapia dobbiamo ricordare appunto il fiore l'arce che dona fiducia in se stessi e si sa che in quel passaggio è un po' delicato o serato ad esempio che aiuta ad evitare anche di farsi influenzare anche da parte di persone che non dovrebbero e mustard perché in momenti di tristezza improvvisa che possono accadere certo comunque si sbalza il monale chiaro poi la medicina integrata appunto può svolgere un aiuto alle donne anche per quanto riguarda la preparazione al parto un fiore importantissimo ad esempio è arnica che promuove il parto accelera anche la dilatazione dell'utero e regola anche l'emorragia e soprattutto poi ad esempio una dose di arnica 200 CH può prevenire l'emorragia del postpartum e soprattutto aiuta a superare il trauma nella partoriente poi appunto per quanto riguarda anche le altre gli altri passaggi fondamentali della vita della donna anche nel postpartum appunto è importante ad esempio la calendula perché si possono fare delle compresse calde appunto di tura madre nelle suture del taglio cesareo e anche nelle ragadi appunto del capezzolo del seno post-dattamento esatto per quanto parte fondamentale poi anche l'ansia soprattutto nella gravidanza nel postpartum con il baby blues la depressione postpartum e qui ci aiutano ad esempio delle piante che sono la china sepia e fosforicum acidum che è un medicinale omeopatico e l'altra faccia diciamo della vita della donna è la menopausa che per noi diciamo non è vista come una malattia ma è diciamo una delle fasi del cambiamento e qui ci aiuta ad esempio un fiore di bacche e walnut che ci aiuta soprattutto per quanto riguarda le vampate di calore e cherry plum per il mancato controllo della situazione che può accadere appunto in queste fasi per quanto riguarda le piante invece utili in questa fase della vita della donna sicuramente la salvia il trifoglio l'angelica soprattutto la cimicifuga sono quelle che ci aiutano a controllare meglio i sintomi della menopausa che cosa facciamo diciamo alla Lilt per questo ambito allora diciamo che a me piace poi oltretutto occuparmi anche di medicina uvantistica quindi si possono utilizzare e abbiamo un utilizzo tra l'altro anche alla Lilt per quanto riguarda in esclusiva la provincia di Siena un apparecchio che si chiama Glicasin System che ci serve per vedere appunto lo stato di glicazione del paziente questo vi è molto utile soprattutto appunto nella terza fase della vita della donna perché questo ci può dare è un sistema di prevenzione anche per quanto riguarda l'osteoporosi la glicazione è praticamente lo stato di glicazione è tutto quello che succede nel nostro organismo per quanto riguarda la parte diciamo a cosa tutti sappiamo che noi siamo costituiti per l'80% da acqua e quindi questo apparecchio invece ci fa vedere che cosa succede quando la proteina si combina con lo zucchero in pratica con gli zuccheri se l'organismo sta bene questa soluzione rimane sempre acquosa e quindi tutte le nostre funzionalità per detox per quanto riguarda appunto ad esempio l'epidermide funzionano correttamente quando iniziano ad averci qualche problema appunto che si va dall'osteoporosi al problema oncologico si vede che questo stato di glicazione interviene e l'acqua inizia a caramellizzarsi e quindi è un sintomo di allarme dove possiamo intervenire con tutti i nostri prodotti un altro screening screening è importante e si può fare il ROFES test che questo è un test che si fa nel punto per i cardio 7 della medicina tradizionale cinese qui alla piega del polso praticamente in tre minuti qui addirittura si riesce a fare un'analisi preprimaria e quindi si riesce a vedere anche a livello energetico la funzionalità di tutto l'organismo è un test importante perché appunto in tre minuti ci fa vedere lo stato di benessere diciamo come ci saura tutti oppure di malessere della persona e quindi a riuscire ad intervenire su questo altra cosa importante invece soprattutto per quanto riguarda l'oncologia è la microimmunoterapia cioè tramite una normale analisi del sangue noi possiamo avere a disposizione un pannello linfocitario e ci fa vedere come funziona tutto il nostro sistema immunitario e questo è veramente essenziale per quanto riguarda la cura dei tumori perché noi abbiamo a disposizione delle citochine e degli ormoni omeopatizzati che appunto possono agire anche in ambito oncologico e è una cosa estremamente importante soprattutto per le donne visto che oggi si parla di questo ma comunque anche per tutti in generale allora io mi scudo dottore devo stringere un po' i tempi che siamo siamo un po' lunghi con i tempi previsti in questa scaletta di questa lunga giornata di dirette però avete sentito e vorrei proprio sottolineare la centralità di come anche questo importantissimo settore della medicina la medicina integrata la medicina naturale accompagna innanzitutto tutte le fasi della vita quindi anche le giovanissime ha fatto molto bene a ricordare proprio anche questo elemento dedicato oggi noi parliamo di medicina di genere quindi in questo caso alle giovanissime pazienti legate alla prima mestruzione legate a problematiche in una prima fascia di età giovanile medicina di genere che abbraccia tutta la vita l'abbraccia con un controllo e con un aiuto per ottenere quell'equilibrio che è poi la base ovviamente la terrei qui ore abbiamo però il tempo stretto anzi ci auguriamo di poter spresso nuovamente riparlare di questo tema io intanto la ringrazio e gli faccio i complimenti per il suo lavoro anche per questa bella introduzione storica Francesca siamo quasi in chiusura quindi piccolo break con la sigla e poi richiamiamo la presidente per il saluto finale intanto un grande grazie al dottor Massimiliano Scapecchi medicina integrata e naturale alla Liltasiena grazie a voi grazie saluto finale di questa inizio mattinata insieme festival della salute 2020 a Siena prevenzione medicina di genere avete sentito veramente un caledoscopio di testimonianze con grandi professionisti quindi ringraziamo ovviamente la Lilt per essere messa a disposizione e divulgare tramite i suoi grandi professionisti tante tematiche essenziali siamo dicevo saluti finali anzi mi scuso abbiamo sforato di una decina di minuti quindi mi scuso con i colleghi successivi per le altre dirette ci tenevo però un saluto insieme innanzitutto alla dottoressa Francesca Cesareo oggi abbiamo fatto un affresco ma il tema è chiaro cioè personalizzare la prevenzione e l'affidarsi poi esatto era un modo un po' per far conoscere questa evoluzione che c'è stata negli anni allo stesso tempo far conoscere i vari professionisti che prestano servizio alla Lega anche in quest'ottica che ci piace un po' adottare sia per la prevenzione ma anche per seguire il percorso della donna nelle sue varie fasi Presidente allora brava Francesca bravi medici perché insomma hanno avuto una capacità molto fiare divulgativa molto efficace quindi sono molto contenta di questo perché spero che tutti abbiano apprezzato e colto le cose più importanti l'importante appunto è controllarsi volersi bene in questo momento più che mai e quindi invitiamo le donne perché oggi parliamo di medicina di genere quindi di medicina per le donne a controllarsi in maniera periodica ma anche gli uomini perché questo è il mese della prevenzione del percorso azzurro che tutte le LILT fanno in Italia quindi anche gli esami che sono specifici per gli uomini in questo momento sono estremamente importanti quindi avvicinatevi a un urologo non ne abbiamo cinque sono tutti bravissimi e quindi invitiamo anche gli uomini a pensare che periodicamente si debbano controllare quindi anche grazie a voi grazie a Virginia perché non si sono arresi in questo festival della salute era troppo facile mettere i remi in barca invece no hanno navigato e quindi li ringrazio davvero per aver tenuto duro in questo momento e aver diffuso così tanto questo messaggio di prevenzione così importante per noi e per tutti grazie 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 al presidente della LILT di Siena Gaia Tancredi e alla vicepresidente Francesca Cesareo rimanete sintonizzati sul sito del Festival della Salute o sul canale 3 in Toscana sull'epidatv in Emilia per continuare a ascoltare insieme questa ultima giornata del Festival della Salute 2020 da Siena noi ci rivediamo per i saluti finali insieme all'assessore Apolloni alla fine delle dirette una buona continuazione io ho il cancro ma il mio vero problema sei tu tu che non porti la mascherina tu che passi più tempo in giro che in casa tu che te ne freghi delle regole non capisci che è l'unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali per permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per tutti i malati non solo quelli di covid ma anche quelli di cancro come me segui le regole anti-covid grazie a tutti Grazie a tutti.